Quando si parla di Africa, noi europei tendiamo solitamente a sottolineare quelle che sono le miserie e le ingiustizie che affliggono questo grande continente e ciò è dovuto, dobbiamo ammetterlo anche ad un certo modo, di raccontare fatti e accadimenti che avvengono a quelle latitudini che sono inutile nasconderselo, anni luce distanti dal nostro immaginario. Ecco che allora si trascura un'iniziativa ad esempio come l'Africa Continental Free Trade Area, si tratta di un trattato che ha coinvolto oltre 50 paesi africani che formalmente è entrato in vigore il 1 gennaio del 2021 e questo trattato, importante sottolinearlo, disegna la nuova geografia economica a livello continentale e rappresenta una pietra a miliare in quello che è il processo di integrazione africana attraverso il libero scambio delle merci. Questo trattato sulla carta rappresenta davvero una grande opportunità per i paesi africani, consentendo loro di incrementare l'industrializzazione, il mercato del lavoro e il commercio all'interno del continente. A questo proposito c'è da considerare che i paesi africani attualmente commerciano più a livello internazionale che tra loro. Secondo i dati che sono stati forniti dal World Economic Forum, il commercio intraafricano rappresenta ad occhio e croce il 17% delle esportazioni africane, una percentuale di gran lunga inferiore rispetto per esempio al 59% dell'Asia o al 68% dell'Europa. Al momento il commercio intraafricano rappresenta, e questo è il dato davvero incredibile, solo il 2% del commercio globale. Ma qualora questo trattato dovesse effettivamente decollare, come si spera, le prospettive potrebbero essere molto positive. Come è noto la pandemia del famigerato coronavirus ha messo in risalto la dipendenza dei paesi africani dai cosiddetti partner extracontinentali. Basti pensare che oltre il 90% dei farmaci viene importato da paesi non africani. Con il risultato che l'emergenza vaccinale, unitamente all'aumento dei prezzi, al divieto alle esportazioni di materiali farmaceutici deciso da diversi governi produttori, e questo per far fronte proprio all'aumento di domanda interna, tutto questo ha creato non pochi problemi all'Africa. Da questo punto di vista, è il caso di dirlo, questo libero mercato potrebbe rappresentare davvero uno sprone per favorire la crescita dell'industria farmaceutica africana, limitando così la vulnerabilità del continente. C'è da considerare che stiamo parlando di un mercato che riguarda oltre un miliardo e 300 milioni di persone, la stragrande maggioranza dei quali sono giovani. Teniamo presente che oggi un africano su due a meno di 18 anni. È da rilevare che attualmente il 17% della popolazione mondiale è in Africa e si stima che entro il 2050 gli africani saranno quasi due miliardi e mezzo. A questo punto è evidente che l'area di libero scambio, nel momento in cui dovesse davvero diventare effettivamente operativa, potrebbe rappresentare un deterrente contro la disoccupazione, la povertà e potrebbe essere un modo molto concreto per promuovere lo sviluppo. A che punto siamo però effettivamente con questo mercato del libero scambio africano? Al momento risultano ratificati gli strumenti giuridici, vale a dire i protocolli sugli scambi di beni e servizi e sulle risoluzioni delle controversie. Mentre sono tuttora in corso i negoziati sulle regole di origine dei prodotti, vale a dire quelle normative che preciseranno quali merci beneficeranno del trattamento preferenziale nell'ambito di questo libero mercato. Per quanto concerne invece i negoziati legati ai diritti di proprietà intellettuale, investimenti, politica della concorrenza, e-commerce, alcuni di questi negoziati sono già stati avviati, sebbene non sia ancora chiara la tempistica. Considerando che l'anno che è trascorso, il 2021, è stato il primo anno di vita di questo libero mercato, peraltro segnato, lo sappiamo molto bene, da circostanze tutt'altro che favorevoli a causa del dilagare del famigerato Covid-19, le premesse, guardando al futuro, sono di buono auspicio, anche se occorre rimanere davvero con i piedi per terra. Cosa significa stare con i piedi per terra? Significa comprendere che ci sono molti interessi internazionali sull'Africa, occhi puntati da parte delle grandi potenze, anche perché questo continente, lo sappiamo bene, è una miniera a cielo aperto. In questi anni è stata svolta, spesso da multinazionali, società straniere, un'azione davvero predatoria che ha acuito a dismisura la divaricazione tra ricchi e poveri. C'è da tenere presente anche che nel corso della pandemia, purtroppo, le agenzie di rating, Standard & Poor's, Moody & Fitch, hanno praticamente declassato le migliori economie africane e questo non ha fatto altro che mettere in difficoltà il continente, anche e soprattutto dal punto di vista debitorio. In tutto questo contesto un ruolo certamente importante deve essere per forza rivestito dall'Unione Europea e dai suoi Paesi membri, che hanno la grande responsabilità di sostenere il processo del libero scambio delle merci in Africa attraverso innanzitutto investimenti, commercio e assistenza, dimostrando concretamente di voler aiutare, come spesso si dice nei circoli della politica nostrana, gli africani a casa loro. Grazie a tutti!